Ottimo bilancio per il servizio che ha permesso i collegamenti tra la riviera romagnola e la Croazia. Utilizzato non solo per lunghi soggiorni ma anche per brevi viaggi in giornata, il catamarano veloce Eurofast ha contato più di 10.000 passeggeri nell'arco della stagione appena terminata. Si tratta di cifre importanti, sottolineano dalla compagnia, che ha visto largo apprezzamento da parte dei passeggeri in particolare per le tratte dirette che hanno collegato la Romagna alle località di Rovigno e Lussino. L'imbarcazione utilizzata ha uno scaffo lungo 40 metri, è dotata di due motori da 3.000 cavalli e viaggia ad una velocità di 26 nodi, pari a circa 50 chilometri orari. Già nel 2016, dopo alcuni anni di sospensione, il servizio era stato nuovamente ripristinato ma con uno scarso numero di traversate. Quest'anno invece, da giugno a settembre, si sono svolti 50 collegamenti unendo i porti di Cesenatico e Pesaro alle numerose località e isole croate e per il prossimo anno sono previste nuove mete e nuovi programmi.